belen ha trascorso il suo primo natale con il nuovo compagno elio lorenzoni la showgirl di origini argentine e l'imprenditore bresciano si sono ritagliati uno spazio di felicità in una struttura turistica della francia corta con loro anche la piccola luna avuta nel 2021 dalla 39 n insieme all'ex antonino spinal vese i tre hanno scartato i regali e mangiato i classici dolci festivi immersi nella natura lombarda ad un passo dal lago di seo sul social la rodriguez ha condiviso molte immagini del soggiorno inclusi diversi scatti in accappatoio realizzati durante i trattamenti alla spa dell'albergo con loro non c'erano i familiari di belù che sono tutti volati in argentina incluso il cognato ignazio moser tra non molto sembra che però li raggiungeranno in sud america recentemente belen ha fatto molto parlare dopo essere andata a domenica in a raccontare perché è finita con il marito stefano de martino ha spiegato di essere stata tradita molte volte dopo essere stata male ed essere anche finita in una clinica per essere aiutata dai medici ad uscirne si è ripresa proprio con l'aiuto di elio parlando di lorenzoni ha detto alla venier eravamo amici ma non era mai successo niente lui è una delle persone più rispettose che abbia mai incontrato lo conoscevo da 12 anni ma era tanto per bene che non riuscivo a riconoscere l'amore non ero abituata avere oggi una persona per bene accanto non mi sembra vero non mi sembra vero non mi sembra vero non non mi sembra vero